A voi, alla Getty G Express, ho cominciato i nostri lavoro per la piscina Tapara. Minarò il Silumero e ho lavorato con due richieste unire per il lavoro. Ho cominciato a fare i corsi per la guardia zoologica, riprendo la scuola d'Algaret Pasqualascano, Badi Vinton, un Algaris in Serie A. Sigla! Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno, al coperto 750 euro l'anno. Vought Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. Buongiorno e benvenuti alla Getty G Express, l'appuntamento quotidiano all'informazione di Alghero Channel. Salute ai amici catalans. La nuova piscina comunale ha scomenzato il percorso che è messo in manco e non ha lavoro in pronta per accogliere le attività di Nara Rolse per tutti l'anno. Finalmente ha legato una piscina Tapara. Costerà 2 milioni e 600 mila euro, reperito a Marius Fondus Jessica. Ha un progetto moderno e funzionale, migliorato e riqualificato nella sua spazza esterna. Il sindico Mario Bruno ha presenziato, insieme all'assessor delle opere pubbliche, Raimondo Cacciotto, all'incontro con gli stessi del Comune e i rappresentanti dell'Electric System, l'impresa esecutoria delle opere. Di lunedì al mattino i lavoratori ex-Ati Ifras sono abbaissati dalla taurara della cattedrale di Sassar e sono nati alla miniera dell'Umero, ricambiando la visita solidale dei giorni passati dei mineroli. Sono nascendo le richieste di un territorio mal turiat della crisi. Sono uomini che non si rassegiano e le scorsi lenti della miniera continuano a aiutarli a 180 metri di profondità per difendere i propri diritti e il futuro delle famiglie. Oltre a 30 persone, uomini e donne che sono presentati all'ubertura del primo corso Guardias Zooloficas, organizzati dalla sede della Polizia Municipale di Rallier, dell'Agrambiente, della Regione Saldegna, entriano i carabinieri, guardi giurari, militari, ma anche donne di casa e disoccupati, un gruppo di gente che si vuole posare in discussione e che seguirà il corso fino a gennaio del 2008. Guardias Zooloficas E' arrivata l'app di Alghero Channel, la web social tv. Puoi vedere l'Algero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it Alghero Channel, web social tv E' sport La classifica nazionale di badminton ha straordinari risultati di Ivan Soju, dell'ABC Angelo Rotti Deleghe Che conquista la Serie A nel singolare maschile, entrante a Fepal, dentro all'Usezza Giugaru, si mesfolsi in Italia E' portante per la prima volta la Saldegna nella massima serie L'atletta Algaris conquista la Serie A, tambi nel Dubra maschile, giocante insieme a Madaniele Carlone, del Brasciano Badminton Con la quale diventano, entrano le sdobre, ma sforzano in Italia, alle 13 posti assoluti La curiosità tra voi, a voi un cisto di Libra Cirofada Chi c'è stava, vede una purità, che era una purità che stava oggi E che vuol dire, chi è che gli ha stava, chi gli ha stava Era un uomo alla purità, salcante dei palani, taria un po' che è corretto Quale feva che ci ha preguntato di Eva, chi ci stava? La sciglia ha ben alzantato e l'uccisto, non ne ha trete, ma nessuno Per qualsiasi volta in generazione, le informazioni, le domande, le domande e le contattate alla pagina Facebook di Algaris Channel E ora le previsioni del tempo per domani Amo sveola 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 Grazie a tutti.